E ben a tutti i datori, sono Gio e bentornati, sono a un video di Pokémon GO! Bomberoni era ora, era ora come potete vedere qui dietro dal cielo, finalmente azzurrino, si intravede! Sole, sole, finalmente una bellissima giornata! E a proposito di belle giornate, è appena stato annunciato il GO Fest 2024! Quindi allora raga, prima di partire io oggi ho ancora tentato di mettere la Roma avventura giornaliero, infatti vedete lì in alto a destra, che non ce l'ho più perché l'ho utilizzato prima, ho messo addirittura anche l'effetto avventura di alga, perché ho aumentato il tempo appunto del nostro aromino, ho fatto 12 minuti in più, quindi avevamo, non lo so ragazzoli, all'incirca una mezz'oretta di aroma, e secondo voi i leggendari di Galar, 100 raga ne sono usciti, porca miseria! Cioè, come al solito, come al solito questi uccellacci non vogliono farsi vedere, ma tranquilli allenatore, mi sto organizzando per andare a utilizzare la roba avventura giornaliero per ben 24 ore! E se non lo troviamo lì un leggendario di Galar, e lo catturiamo lì, porca miseria! Raga, in game non vedo ancora nulla riguardante appunto gli eventi GoFest, Safari Zone eccetera, infatti se andiamo ad esempio, vedete qua, su novità non c'è una cippa di niente, abbiamo ancora lì la giornata dedicata a Archeo, Chiogre e Groudon, che lo andremo a vedere con calma raga, che sarà veramente una giornata super epica da non perdere! Andiamo a vedere sul profilo Twitter OX ufficiale di Pokémon GO, ragazzuoli, ma attenzione, guardate cosa ho trovato, c'è spettacolo questo qua di Pokémon GO Hub, alcuni allenatori riferiscono di avere accesso alla beta, ai nuovi sfondi di cattura, ci dicono che sembrano carini, ma presentano una manciata di problemi e alcune penalità in termini di prestazioni, quindi resta da vedere quando saranno pronti per il lancio, e penso proprio che allora dovranno sistemare ancora qualcosina allenatori, ma guardate qua che bellezza questi nuovi sfondini che abbiamo visto raga in America, i soci appunto che hanno partecipato, i nostri colleghi al tour, alcuni allenatori appunto avevano già questi nuovi sfondini, veramente molto bellini alcuni raga, come potete vedere qua abbiamo diversi Pokémon, quindi penso proprio diversi habitat riguardanti appunto questi sfondi, perché come possiamo vedere sono ben diversi, ragazzuoli questo qua dovrebbe essere un habitat, mentre questo qua un altro, vediamo se abbiamo altre immagini, che bello raga, qui però si intravede, possiamo vedere che ci sono appunto un po' di problemini come ci hanno detto nel post, speriamo che risolvano molto in fretta raga, perché è veramente uno spettacolo, è questa nuova modalità di sfondi, anche perché non lo so, se adesso io vado in città ci sarà un tipo di sfondo, se vado verso il lago, come questo qui, ci sarà questo tipo di sfondo o simile, bellissimo raga, bellissimo, rimanete sintonizzati anche voi, così almeno scopriremo quando verranno introdotte in game, oddio raga, eccolo qui come possiamo vedere, Marsha, dove infatti, Pokémon GO Fest 2024, 2024, ed eccoci qua sul profilo ufficiale di Pokémon GO, Twitter o X, chiamatelo come volete oramai, ragazzuoli, attenzione lo vediamo qui, lo vediamo qui, allora qui non abbiamo più altre news, quindi attenzione allenatori, 31 minuti, vedete che io prima l'ho vista quasi indirettissima, attenzione andiamo a leggerla e a vederlo insieme, soprattutto Pokémon GO Fest 2024, i dettagli arriveranno molto presto, quali città visiteremo quest'anno, restate sintonizzati, allenatori, spero proprio, non lo so, si vocifera ragazzuoli, magari Roma addirittura, o Milano, non lo so ragazzuoli se c'è abbastanza spazio nei parchi, non ne ho idea, non ne ho idea, fatemi sapere, in caso voi allenatori si abitate proprio Milano, Roma, Napoli, in una bella città, dove sarebbe magari possibile effettuare il GO Fest 2024, e allora andiamo a vederci il video ragazzuoli, andiamo a vederlo insieme, qua è già iniziato, Pikachu, Eevee, attenzione ragazzuoli possiamo tirare via, ok, almeno è un attimino più dedicato il video, ci immergiamo di più, GO Fest 2024, non è che ci vanno a spoilerare tantissimo raga, ecco qua questi nuovi sfondi secondo me, ma soprattutto l'ombra che vediamo qua, altri dettagli arriveranno a brevissimo in game, secondo voi ragazzuoli l'ombra che abbiamo appena visto di chi è? Eh sì, diciamo che ve l'ho spoilerato prima in anticipo, è proprio lui, Marshadow, il che vuol dire che il Pokémon misterioso di quest'anno del GO Fest 2024 sarà proprio lui, Marshadow, che sinceramente raga lui lo conosco, anche essendo un po' delle nuove generazioni, non delle nuovissime, delle ultimissime, però come sapete io sono un veterano delle vecchie generazioni, ma lui l'ho già visto, lo conosco, è veramente un bel Pokémon, staremo a vedere chiaramente se lo inseriranno, leggendario, misterioso, se si potrà scambiare, quindi come dicono loro, attenzione, rimaniamo sintonizzati, siamo in super hype, attendiamo ulteriori news. Eh raga, huevos, quattro uova da cinque chilometri, mi sono mosso appena, porca misera, vediamo, attenzione, anche perché finalmente andremo a cacchissima di Charcadette, Carcadette, che uova sono queste cose, che cacchio di uova sono, raga? Boh, Sableye, ok, Poumi, Poumi, magari un bel cento, un bello Shiny, eh, non si sa mai perché Sableye, Liki pure, abbiamo lo Shiny, mentre di Poumi non c'è ancora, dai, Fueco, Fuechecos, Fuechicos, Fuecoco anche lui, valutiamoli al volissimo, raga, al volissimo, scarso, 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 eh ma che schifezze, raga, che schifezze, ma abbiamo liberato un po' la borsa huevos, ecco qua, tanta robetta, ragazzoli, anche perché vediamo se troviamo subito, vediamo se troviamo subito da due chilometri, molto bene, così almeno si schiudono subitissimo, e eccolo lì, raga, eccolo lì, Charcadette, Carcadette, questo nuovo Pokémon che non ho ancora capito come il cavolo si pronunci, siamo sotto il suo evento, quindi dobbiamo andare a schiuderne il più possibile perché dopo sarà veramente complicato, ragazzuoli, trovarlo appunto dalle huevos perché sarà disponibile solamente dalle uova da 10 chilometri, mentre adesso, come potete vedere, lo abbiamo in tutte le uova, 2 chilometri, 5 chilometri e 10 chilometri, e io adesso, raga, vado subito a posizionarle nelle incubatrici, e allora a proposito di Marshaldo, visto che lo incontreremo molto presto, allenatori, andiamo a visionarlo un attimino, eccolo qua il nostro amicone, ragazzuoli, è un Pokémon, lo conosciamo, ragazzi, di tipo lotta a spettro, pesa 22 chili, più o meno, raga, altezza non arriva manca a un metro, 70 centimetri, però da quello che ricordo vola, giusto? Da quello che ricordo, Pokémon un attimino furbacchione, ragazzuoli, all'interno degli anime, allora i punti lotta massimi che può ottenere Marshaldo, livello 50, sono 4217, mentre a livello 40 arriva a 3730 punti lotta, mentre a livello 25 2664 punti lotta, a livello 20 2131 punti lotta, e livello 15 1599 punti lotta. Staremo a vedere chiaramente come lo inseriranno all'interno del game, ragazzuoli, se è una missione speciale a tempo o cosa. Le sue statistiche sono attacco 265, difesa 190 e resistenza stamina 207. Da quello che vediamo qua è un buon attaccante, non il massimo, raga, però, quello che spicca di più delle sue statistiche è sicuramente l'attacco. In conclusione, allenatori, prima ho fatto ancora un ride di Pikachu, qual'era? Questo qua, no, questo qua è la ricerca sul campo, questo qua che mi hanno invitato dai Canada. E a proposito del Pikachu Shiny, eccolo qua, Oscar, porca misera, l'ha mandato adesso nel gruppo abbonati, ma che sculato! Ha scritto che l'ha trovato da ride, infatti come possiamo vedere dalle statistiche, tre stelle, molto buono, bellissimo, posizione pavia. Eh, lo dicevamo che da pavia gli Shiny sono garantiti. Eh, huevos, come mai? Da cinque chilometri, raga, vediamo se sono già quelle nuovine, non penso, e quelle nuove con dentro ciarci e roggerola. Una schifezza, via, trasferito subitissimo e missioncina, ne ho qua una. Che dovevo schiudere tot huevos, che l'abbiamo fatto prima, raga, quindi dai, fu e cocco, non c'è Shiny. Bomberoni, fatemi sapere cosa ne pensate voi del GoFest di quest'anno. Oggi abbiamo ricevuto uno spoiler, ma niente di più. Maggiori dettagli sicuramente arriveranno a breve, come la data dell'evento e il luogo soprattutto, ma da quello che abbiamo capito si svolgerà in estate. Quindi, raga, se avevate l'idea di partecipare, è arrivato il momento di organizzarsi. Chiaramente magari lasciando libere le settimane di vacanza lì nel momento estivo. E soprattutto, cosa ne pensate di Marshall of Pokemon misterioso ottenibile al GoFest? E per oggi, Bomberoni da GamerGio, è veramente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video, raga, vi è piaciuto, vi do lascia un bellissimo like. GamerGio vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers! Ciao Bombers!